Musica Oltre all'arcobaleno per Roma, il titolo della mia campagna. L'arcobaleno mi accompagna da sempre, nei vent'anni di attività, per il mio movimento, per il movimento di cui faccio parte, LGBTQ. E comunque l'arcobaleno è un simbolo di rinascita perché questa città ha raggiunto i minimi storici, questa è l'eredità che la giunta uscente ci lascia ai piedi di uno dei monumenti più belli di Roma. E mi sono sentita questa volta di dover scendere in campo con Carlo Calenda che trovo un uomo pragmatico, deciso e concreto. Per questo ho scelto di presentarmi come consigliere comunale con la lista Calenda Sindaco.